è arrivata l'autunno per ridere castagne voglio oggi castagne e l'abbiamo fatto in due diversi modi una frigidrice aria che ormai fanno tutto quanto ormai è questo qua cartoccio con mandarino all'oro e cannella guardate come sono bella morbida mamma mia che si sbucciano facilmente e sono morbidi sia questa che quella ma tu vuoi vedere come l'ho fatta e allora tu vi dovi essere lo vedi e mi vaga a mangiare come prima cosa voglio dobbiamo prendere le castagne e dobbiamo fare un'incisione a croce come si fa un'incisione a croce fate sempre attenzione con il coltello mi raccomando dovete tagliare questa parte qui a croce non la parte di sotto la parte di sopra prendete un coltello fate una piccola incisione sopra vedete fate così non so se si riesce a vedere a parte che sta la nonna alla telecamera quindi fate questa incisione qui a croce così tutte quante fate prima così e poi vi faccio vedere il resto allora una volta che l'avete tagliato così tanto bella tanto bella sistemata metteteli in una ciotola con l'acqua vaiù rimaneteli in ammollo almeno un'ora mi raccomando vaiù fatto ciò ma passata quest'ora pigliate le castagne e metteteli in un panno ok e asciugatele per bene ecco qua una volta che l'avete asciugato nel panno ora voglio io li faccio in due tipi nel cestello della friccitriciare quindi facciamo nella friccitriciare e poi le facciamo a cartoccio facciamole prima nella friccitriciare che è più facile allora prendete la parte questa qua dove avete fatto l'incisione e ve li sistemate tanto bella come i soldatini indiani e poi tanto bella così uno in fila all'altra tanto bella allora guarda qua come le ho sistemate e non devono essere ammassate uno sopra l'altro io ci metto giusto solamente un pizzichino di sale ma giusto un poco così facciamo entrare dentro ora la mettiamo nella friccitriciare a 180 gradi per 20 minuti quella è la cartoccio invece guardate a me carta argentata ok ve li spandete così poi io non ne ho prese molte perché stanno 10 euro o kilo esagerate guardate a me un pizzichino di sale poi guardate a me mandarino ci mettete sia la buccia che l'ha spezzettato un po' di qua e di là sia i pezzettini di mandarini così che sanno proprio spargere tutto parte vedete poi il mandarino anche premuto vaju si avete capito bene proprio il succo di mandarini il mandarino è cosa vaju poi ci andate a mettere guardate un poco 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 di cannella in polvere oppure se avete proprio direttamente la bacca di cannella ancora più buona e foglie di alloro ora andate a chiudere tanto bello questo cartoccio grazie a dia accendete il forno che deve essere già bello preriscaldato 200 gradi per 30-35 minuti ecco qua come viene una bella guardate qua come sono fantastiche mo ce li mettiamo in un panno come faceva la nonna tanto bella e adesso quando sono ancora bollenti proprio veramente bollentissime e pigliamo chiudetele in questo panno e lasciatele qui mo altri 10 minuti 10-20 minuti e finiscono pure quelle lì al cartoccio e poi dopo ce le assaggiamo oh piccana adesso cacciamo queste qua anche dal forno queste qua però non le vado a mettere nel panno guardate qua come sono belle adesso queste qua però le vado a richiudere guardate qua come cosa? però lo faccio per voi non mi interessa guardate qua guardate qua com'è bella adesso io che cosa faccio? la chiudo tanto bella e la rimaniamo in questa carta ancora per una mezz'ora e poi dopo passaggiamo sia questa che quella mo ci arriviamo mi è arrivato il momento più bella ma per me però che ora me l'ho già assaggiato allora prendiamo prima che stacca prima prima se si sbucci e guardate qua ti ti ambressa ambressa ti diamo la rapi dimmelo poco con me che sta parte a caleva aspettate bella morbida la capo ci dice a fine rumore andiamo a provare che stacca al mandarino come si sbuccia sempre facilmente vedete si si sente veramente mandarino e cannella il bicchiere di vino l'autunno può venire buona autunno a tutti e buone castagne a tutti e tu quale preferisci friggi di ciare o al forno in cartoccia a fine rumore